Prima di entrare nel tema di oggi, facciamo una breve rassegna sullo stato dell'arte in questa ricerca su un Nibiru. Dopo aver trovato degli indizi di un secondo astro che appare nel cielo con delle ali prima del distruttore nella Bibbia di Corbin, ci siamo messi alla ricerca di questo testo nelle antiche scritture e diciamo abbiamo compilato un interessante elenco, una collezione di testi che secondo noi fanno riparimento a questo pianeta intruso nelle varie scritture qua e là. Ma pensiamo di aver trovato anche un indizio nella storia, quindi pensiamo che il miracolo cosiddetto miracolo di Giosuè, l'arresto del sole che in realtà sembrerebbe essere l'arresto della Terra per una giornata, sarebbe stato provocato da questo pianeta intruso che ha bloccato gravitazionalmente la crosta terrestre, questa è l'ipotesi. E come riscontro abbiamo citato il collasso magnetico, il caos magnetico ritrovato da tutti gli archeologi del Medio Oriente negli reperti di rame proprio in quella data, quindi 3.000 anni fa. Quindi alla luce di questi indizi abbiamo trovato un stimolo a fare attenzionare questi resoconti di questi astronomi siriani che si presentano sotto l'acronomo di Dr. Sam che monitora la posizione di questo, diciamo, astro. Almeno monitorava perché a un certo punto hanno dichiarato che fino in primavera sarebbe stato invisibile perché coperto dal sole. E qui addirittura abbiamo trovato un disegno di Nostradamus che sembrerebbe dire questo in codice, abbiamo proposto questa analogia. E quindi il dottor Sam diceva adesso lasciamo che lui parli da solo, cioè secondo il dottor Sam sarebbero stati evidenti i segni della sua presenza. Quindi insieme a questi, diciamo, appassionati brasiliani ci siamo messi alla ricerca di sintomi. Abbiamo visto dei disegni di Nostradamus che secondo noi puntano l'attenzione sulla Luna come, diciamo, rilevatore di Nibiru, nel senso che essendo la sua orbita molto delicata verrebbe influenzata da questo corpo celeste che la attira, deforma, diciamo, la posizione spaziale dell'orbita della Luna. E quindi abbiamo citato dei disegni che potrebbero far riferimento a questo. Poi, diciamo, Bruno del canale Collapso Mundial fa molta attenzione all'aumento del passaggio di asteroidi. Quindi c'è un database della NASA che, diciamo, riporta tutti gli asteroidi e lui, diciamo, fa un monitoraggio accurato. Invece c'è un altro canale che fa molta attenzione alle fratture, aumento di fratture e terremoti che in questo momento sarebbero in azione in giro per il mondo e non ben riportati all'opinione pubblica. Ma noi, diciamo, che Nibiru sia il protagonista di questi, diciamo, fenomeni geologici, siamo un po' scettici perché abbiamo iniziato osservando la questione dell'acqua alta di Venezia e ci siamo resi conto che in realtà parte di questo fenomeno è causato dal fatto che Venezia è sprofondata. Ma questo notevole sprofondamento ha una notevole correlazione con, diciamo, l'aumento climatico provocato dalla CO2 secondo la maggior parte dei, diciamo, scienziati. Quindi ci siamo fatti l'idea che l'aumento della quantità di acqua negli oceani provocato dagli osceleramenti dei ghiacci provochi sprofondamento, diciamo, dei bacini e questo spiegherebbe, diciamo, lo sprofondamento di la città di Eracleion a largo di Alessandria d'Egitto che giace alla profondità di 30 metri per molte cause tuttora inspiegabili perché non si capisce. Secondo noi questo sprofondamento circa nel 700-800 d.C. sarebbe stato provocato dal passaggio del distruttore nelle Americhe che avrebbe provocato una variazione nel dislocamento oceanico e avrebbe fatto sprofondare questa, diciamo, città davanti all'Egitto. Quindi diciamo che questa attenzione all'effetto dell'acqua sulla geologia in realtà parte da lontano nel nostro canale. Vediamo che lasciamo raccontare questa storia da questo blog, diciamo, da questo tabloid su internet che riportava a suo tempo un video americano che poneva l'attenzione su questa, diciamo, struttura reshut che si trova nel Sahara e questo video ha spopolato in America. 4 milioni di visualizzazioni in un giorno, un milione in un giorno, 4 milioni allo stato al mente. E qui vediamo degli estratti, il video rivela prove scaccianti, è stato visto quasi mezzo milione in due giorni. I commenti sono, qualcuno era scettico, poi quando ho visto questa struttura la somiglianza, diciamo, hanno perso ogni... però stranamente il video, poi l'articolo in carcere riporta il nostro video. Questo per vari motivi. Primo perché è stato presentato circa un anno prima e poi perché noi presentiamo questo video senza nascondere la testa sotto la sabbia, dicendo che comunque bisogna spiegare perché questa struttura si trova a 400 metri di quota e invece 12 mila anni fa era, diciamo, un porto perché 12 mila anni fa la variazione del livello del mare è stata solo di circa un centinaio di metri, più o meno in quell'ordine di misura. E quindi... e poi sarebbe lo scioglimento dei ghiacci avrebbe provocato un innalzamento dei mari, non un abbassamento, quindi diciamo risulta spiegato. Quindi noi abbiamo formulato questa nuova teoria geologica, la tettonica traslaciale, che proprio dice che la crosta terrestre si deforma sotto il peso dell'acqua e quindi la crosta terrestre si comporta più o meno come un materassa d'acqua e quindi dove l'acqua sprofonda provoca... ci sono in altri luoghi che invece avviene un innalzamento per reazione, quindi ecco che questi posti sono quelli che si alzano quando i fondali marini sprofondano. Quindi andiamo a vedere come si è formata questa commissione e perché questo video è stato ritenuto più consistente. Qui vediamo il canale che riporta le fratture che noi citiamo, quindi un canale brasiliano, qui troverete, quando trovate rasciaturas o fissuras, porta questi eventi che le cronache non riportano. Ecco qui vediamo un'altra serie di eventi che hanno consolidato, diciamo, la nostra convinzione. Sono una concentrazione di terremoti in questa zona che secondo noi è conseguente allo sprofondamento dell'Oionio, che è un mare di circa 4.000 metri che secondo noi sta provocando un sollevamento di queste zone, quindi questo sprofondamento dell'Oionio provoca tutta una serie di effetti di bilancino. Quindi andiamo a vedere i dati che noi abbiamo presentato e osservati su Google Earth. Quindi vediamo che questa struttura risciat che si trova qui nella Mauritania, quindi c'è questo porto che vediamo somiglia in modo incredibile alle descrizioni del porto di Atlantide, quindi cerchi di terra e di mare incisi come in un tornio. Ma noi abbiamo fatto un altro tipo di osservazione che risulta rilevante. Diciamo, queste coste, queste formazioni che circondano, diciamo, quest'isola, noi diciamo che sono il residuo di coste, perché, diciamo, una serie di osservazioni su questo profilo ci ha portato alla convinzione che queste erano delle coste. e quindi fondamentalmente il porto si trova all'interno di un'isola. Diciamo che vediamo delle formazioni che si trovano tutte allo stesso livello, vedete queste strane linee, per esempio queste linee sono alla stessa quota, quindi è ovvio che si possono fare varie considerazioni su questo fatto, ma noi ci siamo fatti l'idea che in realtà questo era il profilo di coste, quindi man mano che il mare saliva e scendeva, il livello marino a causa dello scioglimento dei ghiacci, il mare si abbassava a causa di questi effetti e lasciava dei faraglioni, quindi delle scogliere che sono citati anche questi nel, diciamo, racconto di Atlantide. Poi noi ci siamo fatti un'altra meditazione, abbiamo fatto, ma che cos'è la sabbia, la sabbia del Sahara che noi vediamo qua. Noi siamo arrivati alla conclusione che la sabbia è semplicemente frutto dell'erosione del mare, quindi le onde sbattono sulle rocce e nel corso di milioni di anni sgretolano, diciamo, le formazioni rocciose e questa sabbia appunto si accumula in quella, quindi dove c'è sabbia è un fondale marino. Quindi unendo queste semplici informazioni, quindi dove c'è sabbia era un fondale marino e questi tipo di profili sono il luogo dove arrivava il mare. Quindi diciamo abbiamo visto che queste formazioni in realtà ci sono in vari posti nell'Africa. Per esempio qui vediamo nell'Algeria, vedete queste formazioni. In realtà queste formazioni hanno lo stesso profilo, cioè secondo noi sono il livello a cui si trovava il mare in un certo epoca. Ma il problema qual è? Questo non è che sia del tutto, e anzi per niente eretico, solo che i geologi dicono che questo evento è avvenuto milioni di anni fa. Noi invece riteniamo che se milioni di anni fa le coste sarebbero mutate di molto, non avrebbero avuto questa conformazione così precisa. E quindi in realtà questo evento è avvenuto molto più di recente, quindi all'incirca 12.000 anni fa. Qui vediamo che queste sono tutta una serie di coste che ci hanno permesso di disegnare non un mare ipotetico, diciamo così, sulla base, ma un mare come era realmente tracciato da queste coste. Quindi abbiamo utilizzato in parte la sabbia e in parte, diciamo, queste formazioni rocciose e abbiamo disegnato quale che poteva essere più o meno la configurazione di questo mare interno e che, diciamo, configura una grande Atlantide, perché Atlantide nelle racconte di Platone viene citata come un'isola di grandi dimensioni, che secondo noi era il Nord Africa, tant'è vero che qua ci sono addirittura i monti dell'Atlante. Adesso non vogliamo dire stupidaggine se il nome dipende da questo o no, però sta di fatto che qua ci sono i monti dell'Atlante. Invece nasce un problema che questa isola era un'isola piccola, quindi un'isola qua, dentro il mare. Quindi, diciamo, rimane da spiegare questi racconti se sono la fusione di due, diciamo, di un'Atlante mitologica che in realtà era occultata e invece un'Atlante più recente, quella che si conosceva ai tempi delle guerre con la Grecia, perché questa configurazione è una configurazione geografica in cui si sono svolte le guerre tra Atlantide e la Grecia. Quindi c'era una zona, diciamo, questo mare piccolo, in parte dominato dai greci, almeno la parte più a nord e l'Atlante invece voleva conquistare tutto, diciamo, il mondo conosciuto, secondo i resoconti di Platone, per schiavizzare tutti. Quindi la Grecia si è opponuta, si è opposta tenacemente a questa conquista in una guerra che è stata interrotta da una gigantesca catastrofe che noi riteniamo un megatsunami che è stato provocato da un asteroide che ha fortemente movimentato le acque del Pacifico, ha scavalcato e scavando questo Istmo e ha lasciato queste tracce sia nell'Icaraibi che nell'Antartide. Diciamo, una di queste onde, secondo noi, ha lasciato una traccia anche spolverando, diciamo, questa sabbia, secondo noi questa mancanza di sabbia che c'è qua potrebbe essere frutto di questa gigantesca ondata che ha distrutto Atlantide, ma un po' tutto, perché deve essere stata un'ondata gigantesca. Quindi che succede? che, diciamo, queste fratture noi le leggiamo in una chiave diversa. Per esempio, ci sono delle fratture in Namibia. Vediamo che la Namibia è un posto abbastanza strano, perché vediamo, qui si sono svolte delle fratture. Vediamo che queste fratture si trovano, partendo dal principio che questo tipo di formazione sono le coste di un antico mare, vediamo che si trovano alla quota di 1600 metri. Ora, un posto che si trova alla quota di 1600 metri, se fosse sollevato da scontri tettonici, non avrebbe questa forma di una pianura. Le Alpi non sono una pianura. Invece, questo è un qualcosa che si vede che, secondo la nostra lettura, quindi, secondo la nostra lettura di queste conformazioni, sarebbe un'isola. Quindi vuol dire che questo, diciamo, posto era molto più basso. Quindi il suo sollevamento è stato provocato dallo sprofondamento di questi bacini. Quindi un bacino che sprofonda è una conformazione che si solleva. Quindi noi sottoponiamo. La stessa cosa vale per queste fratture in Arizona. Vediamo che nell'Arizona, qui abbiamo delle fratture, abbiamo anche delle eruzioni vulcaniche. Qui in realtà il fenomeno sembra essere provocato dal sprofondamento del Pacifico. Quindi qui ci sono dei mari che sprofondano e sollevano queste zone. Quindi, secondo la nostra lettura, queste fratture sono provocate dall'aumento della quantità di acqua, dallo scioglimento che fa sprofondare questi oceani e per reazione solleva questi posti. La cosa non è per niente tranquillizzante perché nelle vicinanze di questo posto c'è il megabacino di Yellowstone, che è un gigantesco vulcano con un cratere, con un cratere ruttivo di chilometri che sembra da segnali di nervosismo. Quindi all'interno di questi fenomeni di attività che si caratterizza con queste fratture sembrerebbe esserci un certo nervosismo di questo cratere di Yellowstone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.